Questo incontro con i sindaci della vallata del contratto di fiume per focalizzare le loro richieste rispetto alla problematica. Come sistema regionale noi siamo intervenuti in questi anni, nell'aggiornamento del piano di tutela che abbiamo fatto a dicembre, proprio a una serie di azioni e una serie di importanti finanziamenti per il sistema depurativo in generale abruzzese, poi nello specifico in quello marsicano e quindi a cascata verso il fiume dell'Iri. Nello specifico rispetto alle ultime vicende noi stiamo facendo il monitoraggio tramite il nostro ente strumentale che è l'Arta Abruzzo, stiamo facendo campionamenti, probabilmente verrà richiesto un aumento di questi punti di prelievo e noi acconsentiremo a questo monitoraggio più puntuale e costante. Tutta la vicenda in questo momento è al vaglio anche di varie autorità, quindi le attività che sono in essere sono in essere, emergerà tutto ciò che si è verificato e ripeto non posso dire oltre perché in questo momento ci sono azioni in corso. Una cosa è certa, le verifiche sono in campo, tutti gli attori stanno facendo la propria parte, il nesso vero per superare complessivamente, non solo qui sul fiume Liri ma in generale in Abruzzo, è completare il sistema depurativo, insomma sono in campo risorse enormi che la regione Abruzzo tramite vari strumenti finanziari ha messi in campo. È un disastro ambientale per quello che è il percorso proprio del fiume stesso, con i pesci che sono all'interno del fiume e tant'altro, ma il danno più grande che sta provocando è quello a livello turistico, vedere questo fiume, questa scimua bianca, inquinato perché puzza, soprattutto qui c'è il vice sindaco di Civitella, Pierluigi Oddi, i paesi che sono attraversati a pieno di Civitella dove la puzza è insostenibile, non mi sembra un grande biglietto da visita. Quindi appunto ha nominato il contratto di fiume, quali sono le prossime azioni del contratto di fiume? Si dovrà studiare una strategia che non va a una prossima riunione, una strategia che da lunedì va messa in campo. Noi siamo una comunità che ci tiene al fiume, anche perché come diceva il sindaco di Moreno, passa per tutto la Pallero Edo, quindi è una risorsa importante, è una delle principali risorse della Pallero Edo, quindi noi ci teniamo in particolar modo, per esempio i cittadini non sopportano più, adesso arrivano dei odori fortissimi oltre all'acqua che era di un colore veramente non proprio. Vogliamo dire no tutti insieme con il contratto di fiume che è lo strumento che abbiamo a disposizione proprio per avere un potere contratto alle forti nei confronti della regione affinché venga tutelato il territorio. Quindi siamo qui per questo, per ribadire con forza quelle che sono le nostre decisioni e determinazioni.